007, Triangolo delle Bermuda. Punto sul Triangolo delle Bermuda e i pericoli che minacciano l'umanità inconsapevole delle operazioni tecniche che si svolgono in questa e in altre regioni simili del globo. Il Triangolo delle Bermuda oggi è un luogo che affascina un numero crescente di persone, e non è sotto il controllo semiconscio delle organizzazioni scientifiche e dei governi. Il Triangolo delle Bermuda è un luogo scelto dalle razze d'oltremare per penetrare e rimanere sotto sorveglianza Terra. Questo Triangolo, così come altri luoghi del pianeta, rappresenta per queste civiltà un luogo ideale dove poter lavorare senza essere scoperti e in totale sicurezza. Il Triangolo delle Bermuda è stato a lungo utilizzato per riconoscere le attività evolutive del pianeta. Oggi, è diventato un luogo dove razze molto avanzate nella tecnologia cosmica si preparano ad intervenire in un momento opportuno, se l'uomo fosse, per ignoranza, a scatenare un conflitto mondiale. Il Triangolo delle Bermuda è un luogo molto segreto, perché chi vi entra ha mezzi che non si trovano sul nostro pianeta. Cioè, hanno il potere di penetrare sotto gli strati dell'oceano e alloggiare in luoghi situati a profondità relativamente profonde, lontano dalla sorveglianza militare. Questi esseri intendono, alla fine, farsi conoscere dall'uomo. Ma non hanno alcuna intenzione di dare all'uomo una scienza tecnica che possa competere con la loro. Queste razze avanzate non hanno un senso di generosità per l'uomo. D'altra parte, sono costretti dalle leggi cosmiche a non interferire con l'evoluzione umana. Finché l'uomo non mette in pericolo il pianeta, e finché non ha alcuna intenzione militare a lungo raggio, questi esseri rimangono relativamente irrilevanti per l'uomo. Ma se, per qualsiasi motivo, ci fosse un incontro tra questi esseri e l'umanità, lo shock sarebbe così grande che la civiltà come la conosciamo oggi ne risentirebbe totalmente. Ed è proprio questo che accadrà nei prossimi anni. Il tempo non è molto lontano, ma per l'uomo il tempo è ancora abbastanza lontano. Gli esseri d'oltre mare si sono evoluti in modo molto diverso da noi per molto tempo. Le loro incursioni nella nostra atmosfera testimoniano una scienza tecnologica molto avanzata che oggi appartiene alla nostra fantascienza. Il potere mentale che possiedono serve loro anche per competere con l'uomo senza mescolarsi con la sua popolazione. Questi esseri d'oltre mare hanno già sperimentato, nel corso della loro evoluzione, conflitti di ogni tipo, ma oggi sono venuti a vivere una pace durevole dato l'alto livello di scienza che hanno raggiunto. Ma non hanno una visione positiva dell'evoluzione tecnica e scientifica dell'uomo, perché sanno che l'uomo è ancora molto primitivo nelle sue abitudini e sentimenti. Sanno che l'uomo è un guerriero e che deve, in certi momenti della sua vita, risolvere i suoi conflitti attraverso la guerra. Tuttavia, per loro, poiché l'arte della guerra è superata e realizzando il potenziale scientifico dell'umanità attuale, sono costretti a neutralizzare, alla fine, questi sforzi umani planetari per non permettere un giorno all'uomo di trasportare nello spazio questi dispositivi di sfortuna. Queste razze d'oltremare non hanno sentimenti per l'uomo. Il loro atteggiamento nei confronti dell'uomo è quasi condiscendente, e solo l'uomo informato può rendersi conto che non ha nulla da guadagnare dal contatto con gli extraterrestri. Tuttavia, l'uomo deve anche capire che tra quelle razze che fanno, qua e là, incursioni nell'atmosfera del nostro pianeta, ce ne sono alcune che hanno legami evolutivi con l'uomo, e che sono queste razze spiritualmente molto avanzate, cosmicamente, che un giorno entreranno in contatto con gli uomini della nuova razza. E sono queste razze che aiuteranno l'uomo e gli permetteranno di comprendere i vasti misteri dell'organizzazione politica dell'universo locale. Per questo motivo, quando si parla di UFO, alieni o razze d'oltremare, si deve considerare che ci sono due correnti di umanità che si interessano all'uomo. Da un lato, ci sono quelle razze che sono solo condiscendenti all'uomo perché lo considerano primitivo e barbaro, e dall'altro lato, ci sono quelle altre razze che hanno una grande affinità per l'uomo, perché già appartenevano individualmente all'evoluzione del pianeta Terra. Quando l'uomo avrà colto la sottigliezza delle differenze e delle sfumature tra le razze della galassia, sarà in una posizione migliore per comprendere le motivazioni nascoste di questi popoli. Solo perché le razze avanzate provengono dal cosmo non significa che noi umani dovremmo considerarle superiori a noi. Che siano tecnicamente superiori a noi, è normale. Ma questa superiorità tecnica non ha nulla a che vedere con il potere mentale dell'uomo trasmutato. L'uomo trasmutato è automaticamente nella luce, e il potere della sua mente è perfettamente in equilibrio con le forze mentali di questi popoli. L'uomo ha in lui un grandissimo centro di forze, e questo centro di forze può facilmente dargli, sulle razze dello spazio d'oltremare, una capacità e un potere con cui devono unirsi armoniosamente o, in caso contrario, allontanarsi. L'uomo trasmutato è protetto da razze molto avanzate che lo seguono nella sua evoluzione, ma che possono comunicare con lui solo quando è il momento giusto. E per entrare in comunicazione con l'uomo della Terra sarà fatto all'interno di un gruppo di uomini di diverse nazioni e che hanno un contatto telepatico con i piani della pura coscienza. Gli esseri d'oltremare, che sono solo condiscendenti dell'uomo, un giorno devono riconoscere che l'uomo è al potere sul suo pianeta. E che questo potere è universale nella misura in cui è permesso dalle forze della luce. Le razze d'oltremare che ora lavorano sul pianeta Terra sono razze che devono, alla fine, riconoscere il potere mentale dell'uomo. Ma quest'uomo non è ancora nato, è in evoluzione, è in preparazione, ma un giorno, un giorno, un giorno, un giorno certo, nascerà. L'umanità sarà estremamente colpita dal contatto con le razze d'oltremare. E gli uomini, molti uomini, non essendo preparati per questa esperienza, prenderanno questi esseri per dei. Questo errore fatale costringerà questi individui a sostituire ciò che avranno della coscienza umana con una percezione totalmente errata di qualsiasi legame con gli esseri, che hanno per lui solo un disprezzo pari all'altezza del loro sviluppo scientifico. Per questo oggi l'uomo deve conoscere le condizioni psicologiche della sua resistenza a qualsiasi influenza di questi mondi, di cui non ha idea e di cui non ha conoscenza. Comprendo l'interesse del mondo, in alcuni ambienti, per il fenomeno UFO. Ma devo anche fare capire all'uomo che il fenomeno UFO è un fenomeno che supera totalmente la sua comprensione delle leggi della materia. E inoltre, lo spirito, la mente che si evolve dietro questo fenomeno è tanto più in corrispondenza con una realtà esterna alla realtà umana che l'uomo deve proteggersi da qualsiasi forma di inversione della realtà psicologica di queste entità o razze. Non si tratta più dell'uomo, soprattutto oggi, alla ricerca di fenomeni che, per lui, rimangono misteriosi. È una domanda per l'uomo comprendere appieno il suo posto nel cosmo e rendersi conto che egli possiede in sé un potere, un centro di energie che deve utilizzare, eventualmente, in ogni confronto con queste razze esterne. Il fenomeno del triangolo delle Bermuda e di altri luoghi del pianeta invia un segnale molto chiaro a chi vuole vedere che qualcosa è in movimento, che qualcosa si sta muovendo sul nostro pianeta. Un'altra cosa è quindi considerare questi fenomeni di primaria importanza, volti a correggere l'evoluzione dell'uomo. Che l'uomo sia corretto nella sua evoluzione, accelerato se si vuole, nella sua evoluzione, questo è normale, che la sua evoluzione è sconvolta, questo è normale, ma da lì credere che queste razze aiuteranno l'evoluzione dell'umanità è un errore fatale, che deriva dal fatto che l'uomo non ha contatti, se stesso, con i piani di intelligenze universali da cui potrarre, a suo piacimento, le conoscenze necessarie per poter, nel tempo e nel luogo, contrastare queste influenze dannose. Le gare d'oltreoceano che hanno aiutato l'evoluzione dell'uomo in passato torneranno ad aiutare l'uomo. Ma molte razze sono venute a visitare il pianeta in passato, e queste razze sono tornate a casa, perché sapevano che l'uomo non era in grado di comunicare con loro e di considerarle a livello evolutivo naturale. L'uomo, per questo motivo, non potrebbe mai essere in contatto permanente con queste gare, ed è stato così. D'altra parte, le razze che hanno aiutato l'uomo nella sua evoluzione, nella sua antica scienza, e che devono tornare a comunicare ancora una volta con chi è pronto, permetteranno all'uomo di riprendersi scientificamente in brevissimo tempo. E questa nuova scienza che verrà portata all'uomo gli permetterà di penetrare gli spazi interplanetari, e di scoprire nelle sue esperienze la vera realtà di cui vede ormai solo un aspetto esterno. E' inutile che gli scienziati perdino tempo a cercare di capire il fenomeno dell'UFO. Perché questo fenomeno riguarda chiavi tecnologiche che non ci sono ancora state date. Quando l'uomo entra in contatto con le gare che lo aiuteranno nella sua evoluzione tecnica, queste chiavi gli saranno consegnate e si farà l'aggiustamento vibratorio della sua mente. In modo che il suo cervello possa funzionare elettricamente, in modo da non causargli alcun danno. Le persone tendono a vedere le cose dal proprio punto di vista, e questo è naturale. Ma devono anche capire che l'universo è infinito, che lo spirito è infinito e che il potere dello spirito sulla materia è molto grande. Devono anche essere in grado di capire che le teorie scientifiche di oggi sono teorie che hanno i loro limiti. E che un giorno queste teorie saranno messe da parte, per lasciare il posto ad un livello di comprensione e di scienza completamente nuovo. Quando il fenomeno UFO si manifesta a voi, attraverso i giornali, la radio, i libri, prendete coscienza del fenomeno, conoscete gli aspetti manifestati della sua presenza, ma non diventate emotivamente o intellettualmente legati a questo fenomeno. Pensatelo come un fenomeno che deve avvenire, perché nel cosmo molte razze sono interessate all'evoluzione della Terra, ma anche rendersi conto che non tutti coloro che si evolvono nel cosmo esterno sono necessariamente amici dell'uomo. In questo modo, svilupperete una sorta di saggezza che un giorno sarà in grado di farvi un grande servizio. L'uomo non è abituato a capire al di là di ciò che sa. E diventerà sempre più necessario per gli uomini comprendere al di là di ciò che sanno per esperienza. E c'è un solo modo per l'uomo di sperimentare in questo modo cose che non sono il suo dominio naturale, e cioè di essere in contatto interiore con le intelligenze di luce che ci guidano, e che ci aiutano a comprendere gli aspetti velati dell'evoluzione. Chiunque abbia questa coscienza in lui non può commettere un errore. E su questa consapevolezza, egli costruirà le basi della sua futura comprensione e potrà avanzare con certezza verso tempi che, in pochi anni, diventeranno sempre più preoccupanti per lo spirito umano. L'intelligenza umana è ansiosa di sapere certe cose, è normale. Ma l'uomo deve usare anche le sue altre informazioni. Ed è solo da questa intelligenza che può facilmente comprendere i complessi problemi dell'evoluzione e difendersi dagli abusi che razze che non hanno amore per lui possono imporgli. L'uomo non può più permettersi di vedere queste cose, questi importanti fenomeni, dal punto di vista umano. Deve guardare a queste cose da un punto di vista totalmente pre-personale, da un punto di vista totalmente sovramentale, in modo che, nel tempo, possa affrontare questi eventi senza fretta, senza essere tradito dalla visione che aveva della loro realtà. Anche se gli uomini si sono evoluti nel corso dei secoli e hanno raggiunto un livello di scienza abbastanza interessante da permettere loro di vivere una vita piacevole, sono rimasti con sentimenti ed emozioni fondamentalmente primitivi, e queste emozioni non possono che danneggiarli in qualsiasi contemplazione di una nuova esperienza di cui non hanno idea, la grandezza e il segreto profondo. È solo con i propri mezzi che l'uomo può e deve dominare la situazione di incursioni extraterrestri nella sua atmosfera. E poche persone, vista la popolazione mondiale, saranno in grado di agire. Ma il messaggio deve essere fatto e deve essere ascoltato. Coloro che hanno orecchie per ascoltare, ascolteranno il messaggio e applicheranno nella loro vita le misure necessarie affinché in futuro, quando queste cose accadranno, e accadranno molto rapidamente, questi uomini possano ricordare che, già, erano stati avvertiti di ciò che sta accadendo oggi nella loro vita. L'uomo non deve più aspettare, l'uomo deve guardare con precisione dove si manifesterà il possibile pericolo. L'uomo deve conoscere i punti di riferimento necessari per ogni eventualità. L'uomo deve essere in grado di sapere da solo se è illuminato dalle forze della luce, o se si affida solo alla sua intelligenza, per gettare una luce oscura su fatti che risplendono attraverso il potere stesso della loro realtà. Notate questo, l'uomo è pronto per ogni eventualità, per ogni incontro con il cosmo. Ma è pronto nella misura in cui sa dove si trova di fronte a questa eventualità. Senza questa preparazione, l'uomo è indifeso e la sua mente è scossa fino alle sue fondamenta. E quando lo spirito dell'uomo è scosso nelle sue fondamenta, lo è anche la sua civiltà e tutto ciò che lo circonda. Prima che questi grandi eventi si manifestino sul pianeta, tutta la conoscenza necessaria sarà stata data all'uomo. Ma questa conoscenza non verrà dall'uomo. Ed è per questo che chi ha la sensibilità, l'intuizione, sarà il primo a dotarsi di questi nuovi strumenti per scongiurare i pericoli psicologici e spirituali che un giorno cadranno sull'umanità. L'uomo è ad un crocevia della sua vita, la sua vita deve cambiare, tutto nella sua vita deve rinascere. Ma l'uomo non vede mai nulla fino alla fine. E quando arriva la fine, è sempre troppo tardi. Guardate la storia, guardate Atlantide, guardate Sodoma e Gomorra, guardate le antiche civiltà che erano state avvertite, ma le cui popolazioni non potevano ascoltare questi avvertimenti. Non si tratta che l'uomo se ne vada per paura, non si tratta che l'uomo prenda sul serio tutte queste cose e ne faccia un'immagine orribile. Si tratta semplicemente di far sì che l'uomo sappia e cerchi, con il tempo, da solo, di evocare in lui la stessa sensibilità che esiste tra coloro che hanno la parola. L'uomo è così abituato a vivere una vita su un pianeta, pacificamente, nel senso che questa vita non è influenzata da eventi che vengono dall'esterno, che ha difficoltà a capire e credere che queste cose possano esistere. Ed è proprio per questo motivo che ci sono sempre stati, nel corso della storia, uomini che hanno invitato le persone a comprendere un piccolo qualcosa che andava oltre i limiti della loro mente. Se l'uomo dovesse affidarsi alla sua intelligenza, già misurata dal limite della sua esperienza terrena, è ovvio che l'uomo non potrebbe mai sapere in anticipo cosa dovrebbe accadere. Ma abbiamo, anche nella nostra vita quotidiana, uomini che hanno la capacità di dare agli altri esseri informazioni sul futuro. Tuttavia, se ci sono molti di questi esseri in tutto il mondo che possono dare all'uomo informazioni sul futuro e sulla propria vita personale, è ovvio che ci possono essere anche esseri in tutto il mondo che possono dare all'uomo informazioni, ma di natura più generale, in modo da evitare tensioni su scala globale, per rendere la gente consapevole di ciò che deve accadere nel prossimo futuro. Non è nel calendario di questi eventi che l'uomo deve guardare, ma nella comprensione di questi eventi all'interno dei dati extrasensoriali che gli sono stati trasmessi. Se l'uomo guarda con un'intelligenza equilibrata, uno sguardo freddo, questi dati possono essergli utili. Se li mette da parte, allora sarà solo con la sua intelligenza e la sua mente cieca per vivere questi eventi senza essere in grado di comprenderli o di avere una nozione ragionevole di essi. Nei prossimi anni, molte informazioni saranno date all'uomo, ma data la natura di queste informazioni, saranno diffuse al pubblico attraverso mezzi che hanno lo scopo di informare l'individuo, non la massa. La ragione è molto semplice, è che la massa, per la natura della sua coscienza gregaria, per l'impossibilità di farla capire senza creare panico in essa, non ha il potere di ascoltare e sentire. Ha solo il potere di reagire e tu non devi mai reagire. Dobbiamo ascoltare e assorbire lentamente ciò che è nuovo e ciò che non è nel normale dominio dell'esperienza umana, di nuovo. Comprendete bene questo, quando un uomo viene a voi, vi spiega che ha avuto contatti con esseri provenienti da oltre lo spazio, dovete, di tutto ciò che è più sensibile e in voi per poter ascoltare ciò che viene detto, non negarlo, ma d'altra parte non credere. Perché non è l'esperienza di quest'uomo che dovrà essere messa in discussione, ma piuttosto la natura della motivazione che sta dietro l'esperienza di quest'uomo. E in ogni caso, l'uomo stesso sarà in grado di comprendere le ragioni profonde della sua esperienza in relazione a questi esseri solo se egli stesso ha contatto con la coscienza sovramentale in lui. Solo perché le razze d'oltreoceano arrivano sul pianeta e usano un uomo per condividere certe conoscenze a livello umano, non significa che l'uomo deve inghiottire totalmente quella conoscenza. Finché non lo sai da solo, perché? Per quale motivo? E come queste informazioni sono state trasmesse, siete in qualche modo soggetti ad un processo di raccolta di informazioni di cui non avete alcun potere di verifica. E se non riesci a verificare tu stesso le informazioni che ti arrivano da queste aree, sapi una cosa, che solo tu e te stesso perderai. Il fenomeno UFO non è più semplicemente un fenomeno extraterrestre, è diventato e diventerà un fenomeno psicologico. E dal fenomeno psicologico, diventerà un fenomeno sociale. E del fenomeno sociale, diventerà la base per il rovesciamento globale di un'intera civiltà. Tuttavia, tu, come individuo, come uomo, devi essere in guardia e renderti conto una volta per tutte che non tutto ciò che viene dallo spazio è necessariamente buono per l'umanità. L'uomo non può più mettere tutte le sue uova nello stesso cestino. L'uomo deve custodire almeno uno di essi, e questo uovo che deve custodire è la sua coscienza personale da cui attingere le informazioni necessarie all'orientamento e all'evoluzione della sua esistenza. Il fenomeno degli extraterrestri è straordinariamente importante, e questo fenomeno diventerà sempre più importante per l'uomo con il passare degli anni. Per voi, come individui, questo fenomeno diventerà sempre più reale. In altre parole, sarete d'accordo, nel tempo, sulla sua realtà. Non è attraverso l'intelletto che capirete le sottigliezze di questo evento e gli enormi pericoli che ne conseguono. Gli alieni sono individui che hanno già accesso alla maggior parte dei segreti scientifici della galassia, a seconda del loro livello di evoluzione e della loro capacità di scoprire i campi energetici della galassia necessari per scoprire conoscenze più ampie ed estese. È attraverso il loro potere di gestire l'energia cosmica che possono decifrare i grandi segreti dell'universo a volontà. Tuttavia, questi poteri sono stati loro assegnati per molti anni e per lunghi periodi di tempo. E non hanno alcun interesse a vedere il lavoro che hanno fatto contaminato, colpito da un essere primitivo come l'uomo. Il loro interesse per l'umanità è un interesse che deve servire loro al cento per cento. Se gli uomini, a causa della loro situazione, non sono in grado di capire che questi esseri sono potenti e che i loro cuori non sono dove sono le loro menti, allora l'uomo deve, attraverso la sua esperienza, realizzare la follia di tutte le civiltà precedenti, quella di non comprendere e non rimanere saggio. Non è importante ciò che l'uomo vuole sapere o sapere del triangolo delle bermuda e di questi altri.